ciao ragazzi eccoci di nuovo qui allora oggi unboxing delle due edizioni che vi avevo fatto vedere l'altra volta in anteprima un piccolo assaggio e oggi analizzeremo bene i due cofanetti manta lab di the shape of water e ready player one edizioni che ho preso dal sito cinemuseum perciò cinemuseum store ve lo consiglio perché è bellissimo trovate di tutto e veramente anche solo darci un'occhiata vale ogni minuto del vostro tempo bene ragazzi allora analizziamo subito i cofanetti primo cofanetto ready player one e di questo fin qua cosa dire è uno se non il mio preferito di quest'anno che ho visto fantastico ragazzi è un tripudio di di colori di luci è un omaggio del grandissimo steve spilberg ai film del genere degli anni 80 e degli anni 90 infatti vedete sulla copertina sul davanti in leggero rilievo abbiamo tutte queste immagini che noi vediamo sono presenti nel film il gigante di ferro la mitica delle ore di ritorno al futuro qui vedete batman king kong dinosauro di jurassic park perciò c'è tutto ragazzi e questo film io l'ho adorato perché oltre oltre rendere omaggio appunto a questi capolavori dei dei film degli anni 90 siccome mi piacciono molto i games anche oltre i film e e qui la storia ispeziona proprio questo campo qua infatti si vede i personaggi che indossano questo questa specie di vr no quello che che si usa adesso e per immergerci in un'altra realtà in realtà virtuale e noi scegliamo il proprio avatar noi nel gioco possiamo essere chi vogliamo possiamo dire il tutto il contrario di tutto ed è una sensazione bellissima e qui oltre a questo a farvi vedere regista questo questo strumento che ci proietta in questa realtà fa crea una storia una vera e propria storia ambientata in oasis questa realtà alternativa questo mondo virtuale perciò il filo consiglio a pier ma adesso dedichiamoci al cofanetto allora questo è il davanti bellissimo appunto gli effetti il dorsale che ho scritto ready player one e il retro questi sono i due personaggi e poi tutto il resto anche qua il leggero rilievo e anche i colori vedete l'effetto edizione numerata a 500 copie il box vedete questa è la numero 373 di 500 adesso vi farò vedere all'interno cosa contiene perché in genere contiene molti box contengono una steelbook e due full slip in questo caso ready player one contiene tre full slip allora l'apertura del cofanetto è così perché in genere mantalab è magnetico adesso vi faccio vedere l'altro cofanetto come si apre invece in questo caso l'apertura è così però prima di farvi vedere all'interno vi faccio vedere anche l'altro e dopo vi farò vedere l'interno di tutti e due allora altro film capolavoro di guillermo del toro sto parlando di the shape of water questa è l'edizione secondo me ragazzi è una delle più belle è letteralmente magnifica allora cartone rigido al tatto è molto ruvido e la scritta che vedete qua the shape of water è in rilievo leggermente rilievo ed è bellissimo questo box perché riprende in in toto se vogliamo dire questa prigione d'acqua dove rinchiudono questa creatura ed è fantastico l'effetto perché vediamo qui sul dorsale proprio anche le manovelle proprio sembra reale dietro sembra una una placca metallica proprio come fosse la gabbia ma la la cosa bellissima è il davanti allora se le maniglie vedete qua sono fatte benissimo ma sono stampate i buchi che vediamo qua non sono stampati ma sono stati scavati direttamente nel box e non il cartone molto alto cioè io ve lo avvicino guardate proprio la profondità perciò hanno scavato bene e guardate che bello l'effetto hanno messo questa pellicola colorata che dà l'effetto dell'acqua e vediamo proprio la creatura e il personaggio perciò l'effetto è molto bello che hanno messo la pellicola e poi c'è la steelbook che vi farò vedere però ragazzi l'effetto qui è maestro cioè veramente eccezionale sembra di avere la questa prigione della creatura in miniatura fantastica questa questo qua anche questo cofanetto mantalab edizione limitata questa 500 copie questa è la numero 353 vedete questo qua rispetto a ready player one all'apertura magnetica dal dorsale così magnetica si apre e vi faccio vedere qui c'è subito vedete la steelbook questa mantalabale steelbook in esclusiva bellissima però l'effetto del dell'acqua è dato sì la copertina è blu ma vedete che anche la plastica che hanno messo è azzurra ciò e adesso ragazzi state con me perché vi faccio vedere l'interno di tutti e due allora ready player one abbiamo la linguetta dove sollevando si tira su tutte e tre le edizioni e che cosa abbiamo questo vedete il box vuoto qui abbiamo l'edizione doppia lenticolare sono doppia lenticolare e poi che questa qui l'edizione che contiene il l'edizione 2d e 3d e ricordiamo che su questa su questa edizione mantalab nel disco 3d e presente la lingua in italiano poi questa qui adesso gli apro questa qui l'edizione invece lenticolare solo da una parte e dietro invece è in rilievo vedete anche la l'adesivo mantalab esclusiva e all'interno contiene una steelbook e le steelbook sono uguali per tutte e tre le edizioni con il book e anche questo è uguale per tutte le edizioni e poi abbiamo l'edizione 4k edizione 4k davanti non è lenticolare ma è tutta in rilievo e sul retro ci sono le tre chiavi bene questa le tre edizioni di ready player one adesso vi faccio vedere invece ship of water allora abbiamo detto in questo caso apertura magnetica io ragazzi una volta che lo apro qui è cioè qui è velluto c'è un box secondo me il migliore che che possegue il migliore che abbia mai fatto mantalab personalmente allora che cosa abbiamo anche qua il linguettina dove si tirano le tradizioni in questo caso abbiamo due fuslip e una steelbook e al contrario di ready player one in questa edizione abbiamo l'audio in italiano solo sul disco 4k che non è poco e allora apriamo e che cosa abbiamo abbiamo le tre edizioni anche in questo caso allora abbiamo la steelbook che avete visto bellissimo guardate e il retro che abbiamo anche il cartoncino della steelbook abbiamo il retro della steelbook ricordo esclusiva mantalab questa steelbook poi abbiamo la l'edizione fuslip doppia lenticolare bellissima ragazzi io adesso non l'ho ancora aperto aperto solo la steelbook vi faccio vedere a scusate allora scusate vi apro la steelbook per farvi vedere all'interno in questo caso sulla steelbook è presente vedete qui solo il brulee edizione normale perché il 4k è nell'altra e nella fuslip e abbiamo all'interno questa busta che contiene adesso vi faccio vedere contiene delle cartoline del film il retro è uguale per tutti shape of water questo film ragazzi è superlativo e anche questo lo metto a pari con storie diverse con ready player one dei film che mi sono piaciuti quest'anno e questo non è un film questo è una favola una favola che ci ha regalato guillermo del toro dopo averci regalato tanti anni fa il labirinto del fauno secondo me questa è una una favola magnifica e queste abbiamo delle card e michael shannon che interpreta anche in questo caso un poliziotto cattivo ormai ci abituato michael shannon nei ruoli rende bene l'espressione e il personaggio a fare questi ruoli da cattivo abbiamo visto un bat in superman e l'abbiamo visto anche nella serie tv bordo walk empire dove lui faceva un poliziotto che andava contro il proibizionismo edizione doppia lenticolare fu slip eccola qua cioè dal vivo poi rende ancora di più e questa è l'altra il vetro e poi abbiamo invece l'edizione 4k dov'è appunto presente l'audio italiano un'edizione magnifica e delicata guardate che bella guardate che bella la copertina molto ma molto elegante con i rilievi in oro con l'effetto luce guardate che bella questa è molto delicata e molto elegante appunto e poi anche il retro dove c'è questa scritta questa poesia perché questo qua è questo film qua è una favola è poesia bene ragazzi queste sono i miei due cofanetti spero che l'unboxing vi sia piaciuto noi ci vediamo in settimana con degli aggiornamenti bene ragazzi vi ringrazio e vi auguro un buon weekend ciao ragazzi ciao